Amici di Youtube e di Instagram, buon pomeriggio a tutti quanti, buon martedì e buon 5 a 1 a tutti quanti. Una voce che veramente lascia desiderare, voce nasale, naso intasato come i tombini di Milano, perché a quanto pare i tombini di Milano sono intasati, ormai non escono più i conigli, non escono più, stasera magari usciranno se vincono, però non è detto, non è detto. Poi ho visto anche, girano video su TikTok che la gente gli dà la pasta, gli danno le sigarette, gli danno le chiavi di casa, insomma, è così, è così. Poi ieri puntualmente ne è apparso un TikTok dove addirittura un coniglio è uscito dalle fughe del tombino. Non lo so come andrà stasera, però stasera i tombini potrebbero anche trasbordare ancora di più, oppure si potrebbero un po' svuotare per quelli senza vergogna. Detto questo, torniamo un attimo sul fattore tombinari provinciali di Milano. Allora, diciamo che loro, sentire dire da loro poi lezioni di etica, ok, fa ridere al cazzo, perché loro che con Teo Hernandez e quell'altro Ibra che poi adesso ci arriveremo, che Ibra è tornato a Milanello, Zlatan, lo zingaro Zlatan, è tornato Zlatan, è tornato Babysitter Zlatan, preside Zlatan, bambini fanno casino, Pioli supplente mi ha chiamato, comunque vabbè. Quindi Ibraio dice, e quell'altro coglione di Parrucca Merdanez, facevano i cori, c'è la Noglu figlio di puttana, perché queste cose qua poi vanno dette, quando Bacayoko e che sì con la maglia di Acerbi sotto la curva, quando sono passati con la Lazio e hanno fatto quel gesto di merda, e questo tanta gente magari se lo dimentica anche. Quando quel coglione di Pioli fa così a Murigno, tra l'altro Murigno è girato perché se l'avesse visto, Pioli il dito se lo metteva in tasca, visto che non ha le palle, perché come si fa a paragonare uno che ha vinto qua più di 40 trofei, che ha vinto Champions Conference Europa League, l'unico al mondo che ha vinto tre competizioni europee, ok? Contro uno che cosa ha vinto? A parte quello scudettino miracolato di Delcazzo, che se ripeto, se Giroud, anzi se quel coglione di Mariani, chi è che era, fischiava il fallo di Giroud su Sanchez, questi non vincevano un cazzo, ok? Pioli molto probabilmente veniva esonerato. Quindi questi, stiamo parlando di un Chievo-Verona rosso-nero, questo è, cioè loro sono il Chievo-Verona rosso-nero. E quindi, cioè, no, poi loro fanno lezioni di etica, loro fanno lezioni di etica. Quando Calabria, poi ripeto, che Calabria alza al medio lì tre anni fa, non mi interessa perché poi sono comunque gesti che si fanno nei derby, sono gesti di foga e ci sta perché è un derby, però addirittura con quei coglioni lì che festeggiano e urlano, c'è una buona figlia di puttana, tesserati tra l'altro, tesserati del Milan contro, tesserati dell'Inter, perché lo sfottò è tra tifosi, ok? Se, no, allora, a me non me ne frega un cazzo, lo sfottò è tra tifosi. I calciatori devono solo subire dai tifosi, ok? Non che tu, merda, prendi quel cazzo di microfono e vai a rompere le palle ai tifosi, ci siamo capiti o no? Lo sfottò è tra tifosi, ok? Le prese per il culo sono tra tifosi. Stop. Stop. Quindi, loro fanno lezioni di etica frattesi? Perché, per il gesto, che gesto ha fatto? Quattro a uno zitti, cosa ha fatto di gesto? Anzi, stava dicendo, quattro minuti, avete solo tenuto palla per quattro minuti, state zitti, merda, quello vi stava dicendo. Cioè, per ridicolizzare il vostro prete di merda che avete in panchina, ma di che stiamo parlando? E questi parlano di frattesi, parlano. Ma frattesi ha fatto bene, zitti, quattro a uno a casa, come dice Davidino, grandissimo Davidino, che si è calato al 100% nella realtà Inter. Li odia peggio di noi, visto che anche l'anno scorso stava quasi facendo a botte con Parruca Merdanez in Milan-Sassuolo, dove tra l'altro gliene aveva fatti cinque anche col Sassuolo l'anno scorso, se ci ricordiamo bene, sempre a San Siro. Con gol di frattesi, tra l'altro, grandissimo Davidino. Sarà che è la fortuna frattesi? Chi lo sa? Di certo no, perché siamo veramente quest'anno siamo veramente fortissimi, quindi potevamo vincere anche con, a parte che per battere queste merda qui potevi anche giocare con la Primavera e vincevi lo stesso, però, insomma, è così, è così. Quindi, lezioni di etica da gente che fa ste cose, meglio che vi tappate quella bocca, fognati, tombinari. Poi parliamo del Babysitter Zlatan che è tornato a Milannello perché Pioglio aveva bisogno di professori che metteva il regolo da bambini, perché comunque, cioè, molti dicono, eh no, però chiamare Ibrahimovic dopo che si è perso il derby 5 a 1 vuol dire che allora Pioli non ha le certezze dello spogliatoio, allora era veramente come dicevano tutti che Ibra era il capo del... Ma va? Ma va? Che cazzo è scoperto? L'acqua calda, zio? Perché ne sento di commenti anche su Twitter, così, ma cos'è che non capite? Cosa non capite? Questo è un mediocre, è limitato sto allenatore qua, cioè, ma voi pensavate veramente che il Milan avesse preso questa mentalità a culo con rigorini e antisportività varia grazie a Pioli? Ma secondo voi? Ma secondo voi basta? Il Milan ha avuto solo l'allenatore che si chiama Zatan Ibrahimovic, punto, punto e basta, punto e basta, infatti bastava quando stava fuori e non andava neanche in panchina, Milan le perdeva tutte le partite, Milan le perdeva tutte, quando Ibra è andato a Sanremo, il Milan ha fatto quelle due partite che aveva perso un botto di punti quelle partite lì e poi dopo noi abbiamo vinto lo scudetto perché strameritando ovviamente però, cioè, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? L'allenatore del Milan non è mai esistito, si chiama Zatan Ibrahimovic, punto, punto. Poi voglio sentire ancora Sacchi, io voglio sentire, com'è che dicevo quel coglione di Sacchi? Eh no, perché il Milan gioca un calcio di squadra, corale, un calcio europeo l'Inter invece è un po' individualista, l'Inter non è che gioca deve ancora migliorare, e beh, e beh, si è visto sabato, che bellissimo gioco individualista che ha l'Inter, e che gran gioco che ha il Milan invece, porca troia che gioco, eh, eh, eh sì, ma perché non parla adesso Sacchi? Ah no, ha detto, eh no, l'Inter è stata più furba, ah beh, certo, perché il gol di Turam è un gol di furbizia, sicuramente, una saetta lì all'incrocio che poi anche lì che dicevano ah no perché Turam se ci riprova a fare quel gol 50 volte non ci riesce mai, ma grandissimi rincoglioniti, se uno al derby si prende le palle e la responsabilità di provare un tiro da lì è perché evidentemente ce l'ha nelle corde, mongoloidi, è perché magari ce l'ha nelle corde perché è l'attaccante francese più forte in circolazione ed è quello che solo lui davanti vi metterebbe palle in testa tutto il vostro attacco che avete speso 150 milioni, cioè, perché poi questa cosa qua nessuno la dice, nessuno dice che queste merda qui hanno speso 150 milioni quest'estate per vincere lo scudetto 150 milioni hanno speso queste merda qua quest'estate e gli facciamo 5 pere eh e di cui 4 sono a parametro 0 perché tolto frattesi c'è la Noglu Michi Tari è la doppietta e Turam sono a parametro 0 quindi il grande mercato a 0 che rompevate tanto il cazzo alla fine poi c'è una squadra che sfruttando le occasioni fa mercati della madonna e rinforza la panchina e ha la squadra più completa del campionato e poi c'è gente che dice che spera 150 milioni per prendere 5 pere e far ancora più cagare dell'anno prima grandi veramente grandissimo grande grande bilan grande bilan poi quando io dicevo che il Milan prendeva tutti quando e poi ci metto dentro anche tantissimi youtuber interisti del cazzo perché c'è certa gente che non dovrebbe parlare questo ce l'ho ancora qua io ce l'ho ancora qua quando dicevano che hanno il Milan anche il mercato quello quanto è forte quell'altro io ho detto calma perché il Milan ha preso solo riserve Pulisic faceva la tribuna al Chelsea Love to the Chick faceva la tribuna al Chelsea Reinders è una scommessa l'unico era Chukwez che però fa la panchina quindi a parte Chukwez sono tutte riserve sono tutte riserve quindi cioè è inutile romper i coglioni Okafor non ha fatto 10 gol non è mai andato in doppia cifra in tutta la sua carriera ed è un attaccante figuratevi voi cioè questo va detto questo va detto il Milan ha fatto la campagna acquisita a 150 milioni per prendere solo mezzi giocatori o riserve questo va detto però nessuno lo dice ovviamente quindi vabbè e poi ripeto tornando un attimo a Saki che diceva tanto che il Milan è il gioco di qua di là di là ma vogliamo a proposito di Pioli vogliamo parlare di quando allenavi tu che era il grandissimo Rie eh perché pensate a chiedere a Van Basten come vi parla di Saki pensate a chiedere a Gullit come vi parla di Saki la formazione la faceva Berlusconi stop quello è come Pioli non ha mai contato un cazzo come il Milan di adesso non conta un cazzo basta conta un cazzo comunque comunque parliamo un attimo dell'Inter parliamo della nostra bene amata allora domani si scende già in campo trasferta dura perché comunque sarà una trasferta dura è molto molto ostica è una squadra come la Real Sociedad in un campo come quello di San Sebastian con una squadra basca una squadra forte squadra fisica molto molto fisica e diciamo che non c'entra apparentemente niente con le squadre spagnole tipiche cioè è una squadra più a stampo atletico che a stampo Barcellona Real perché è una squadra molto molto cinica davanti ho visto la partita con Real Madrid comunque ha fatto una gran 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 partita secondo me non meritava neanche di perdere secondo me meritava anche il 2 a 2 secondo poi tutta la tutta la lo sviluppo dei 90 minuti hanno un portiere che ci darà secondo me del filo da torcere Merino e Cubo sono i due diciamo top player sono i due i due diciamo astri nascenti ecco della formazione spagnola e diciamo che ecco bisogna stare alla guardia dietro ma un Inter l'intervista in queste prime quattro giornate non dovrebbe avere grandissimi problemi però meglio non dovrebbe avere grandi problemi nel gestire la partita però sicuramente andiamo a affrontare una squadra molto 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 ostica poi anche lì per tutti quelli che dicevano il girone dell'Inter grandissimo girone di qua un girone del cazzo materasso un girone che l'Inter passerà occhi chiusi questo lo dite voi nel senso che comunque la gente ragiona così perché perché l'Inter è troppo forte perché se al posto dell'Inter c'era un'altra squadra c'era magari un Feyenoord era un girone già più equilibrato dite così perché l'Inter è troppo più forte delle altre ma le altre squadre non sono scarse cioè Sociedad comunque per essere in quarta fascia abbiamo pescato male perché in quarta fascia poteva uscirci l'Anversa se è squadra di materasso qua invece ci è una squadra molto molto diciamo anche una squadra che non ti lascia respirare una squadra che pressa tanto ti viene a prendere alta come l'area Sociedad quindi il girone è bello tosto non è certo non è un girone con le top le big europee ci mancherebbe altro non è un girone difficile questo sicuramente però è un girone un girone ostico un girone che comprende tantissime difficoltà quindi i ragazzi saranno pronti sicuramente il mister darà la sua scelta definitiva visto che è arrivata la notizia purtroppo di una piccola grana dell'infortunio di Cialanoglu che ha avuto un affaticamento muscolare non è niente di che però è di più una via precauzionale tenerlo fuori per la partita visto che poi abbiamo tantissimi impegni ravvicinati con Empoli Sassuolo Champions e via dicendo quindi bravissima il mister scelta giustissima per preservare Ciala e adesso si scateneranno anche tutti i tristoni oppure si scateneranno anche le scelte che potrebbe fare il mister al posto del turco tanti dicono classen tanti vogliono Aslani secondo me anzi lanciare la mia previsione io metterei Mkhitaryan regista e poi sulla mezzala a fianco a Barra la inserirei Davidino Frattesi così avresti innanzitutto una regia comunque sempre di livello perché Mkhitaryan comunque che cazzo vuoi dire a Mkhitaryan cioè io ripeto per Mkhitaryan diventerai gay l'ho detto cioè Mkhitaryan è qualcosa di allucinante imprescindibile per per noi è un cavallo lotta 90 minuti su 90 e poi contando che è un giocatore di 34 anni per tanti era lo scarto della Roma perché poi lo voglio sottolineare ok e quindi secondo me una cabina di regia con Mkhitaryan non non vai non vai a sentire tanta tanta cioè è comunque una manovra sempre verticale senza perdere tempi di gioco secondo me quindi un Mkhitaryan sulla regia e un Nicolino Barella e a fianco Frattesi che ha tantissimi inserimenti nelle corde molti più di Barella molti più gol nelle corde di Nicolino e anche tanti assist sarebbe un centrocampo a dir poco esplosivo poi ripeto le scelte le farà il mister secondo me il mister però farà questa scelta perché lo conosco e sarebbe una scelta diciamo quasi quasi sicura nulla togliere ad Aslan e Klassen che però secondo me entreranno senza dubbio nel secondo tempo e entreranno anche loro a prendere minutaggio e a prendere minuti nelle gambe che servono a tutti e ricordiamo un Inter così forte con una panchina allucinante che all'anno scorso ci sparavamo negli occhi quando arrivavamo al settantesimo perché c'è solo a pensare all'ingresso di Gagliardini con Reas di Cessi qua adesso invece non vediamo allora che arrivi il settantesimo perché puoi rinforzare la squadra puoi puntellarla sul punto di vista della forma atletica nel far andare le gambe soprattutto sulla fascia con Quadrado e Carlos Augusto con un centravanti vero di nome di fatto che ha fatto quello stop molto sottovalutato al derby Marcone Arnautovic che fa quello stop in caduta di Collo uno stop da campione da fuoriclasse assoluto secondo me che nessuno l'ha detto perché però quindi adesso invece l'anno scorso bestemmiavi quando arrivavi al settantesimo che vedevi Gagliardini scaldarsi adesso invece non vedo l'ora che arrivi al settantesimo per comunque permettere più qualità e più e mettere pedine ancora più forti dell'undici titolare e un inter così forte comunque non ha ancora messo Pavard Inzaghi non ha ancora messo né Pavard né Classen né Sanchez né Sensi al derby 0 minuti né Quadrado al derby 0 minuti quindi rendiamoci conto di quanto cazzo siamo forti ragazzi quindi questa era la previsione era la prepartita un po' comunque trasferta molto molto insidiosa insidiosa adesso non so se poi giocherà Pavard al posto di Darmian non lo so so secondo me la mia previsione e secondo me anche la scelta che farà il mister è quella di mettere Mkhitaryan regista in cammino di regia e poi mettere Frattesi a destra secondo me ma vedremo ma vedremo e niente ragazzi quindi un like un'iscrizione al canale che comunque non sono qua ripeterevelo sempre ma comunque ci tengo e stiamo crescendo veramente tanto siamo già su youtube a 177 iscritti magari nel salito 1 ecco 178 stiamo salendo veramente bene comunque non come ai tempi ma stiamo salendo comunque non ci lamentiamo su instagram spingiamo come cavalli mi raccomando ragazzi like a tutti i video like anche agli shorts ai post in community team milano il simbolo regale il biscione dell'fc internazionale perché sta cosa va ribadita perché ripeto a milano voi non valete un cazzo siete i tombinari debosciati scappati di casa di milano milano a due colori dal 1908 amala sempre un bacione a tutti e buon 5 a 1 a tutti ancora e si gode sempre di più di giorno in giorno si gode ancora 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 per 5 volte merda un bacione a tutti o o o o o o